La prima battaglia play-off combattuta in un Barbera incandescente con punte di calore che hanno sfiorato i 30 gradi è stata vinta dal Palermo tra proteste, risse e recriminazioni dei bianco-verdi. Tutta colpa di un contestatissimo calcio di rigore arrivato a 4 minuti dalla fine di una partita vibrante. La sconfitta dell'Avellino rimanda adesso ogni discorso qualificazione al duello decisivo fissato per mercoledì sera al Partenio Lombardi dove si preannunciano scintille dopo che ieri le due squadre si sono affrontate con grande ardore e persino qualche colpo al limite del regolamento. Non a caso per quella che aveva definito alla vigilia come la gara più importante e delicata Braia ha scelto la squadra più esperta ed affidabile disponendola sul classico canovaccio del 3-5-2. Malgrado il caldo torrido che si è attutito soltanto nella ripresa l'Avellino ha provato inizialmente a tenere gli avversari lontano da forte fatta eccezione per una conclusione di D'Angelo all'inizio partita più che a calcio però si è giocato a calci per quasi 25 minuti. Ardore agonistico che dopo un accenno di rissa in cui hanno rimediato il giallo Ciancio e De Rose si è parzialmente attutito quando alle 17.57 il gioco si è fermato in ricordo della strage di Capaci. Il break è durato quasi un minuto ed accompagnato dall'applauso di calciatori ed arbitro per l'Avellino ha avuto l'effetto di una scossa perché i biancoverdi si sono fatti vivi dalle parti di Pelagotti prima con un pallonetto di fella finito alto e poi con un raso terra di Carriero intercettato dal portiere di casa. Questi cinque minuti di grande furore dei lupi a cui il Palermo ha risposto con un colpo di testa di Saraniti su cross di Sant'Anna controllato a vista da Forte replicato sul fronte opposto da un sinistro di Tito che ha sfiorato l'incrocio dei pali. Emozioni in successione che proprio allo scadere hanno raggiunto l'apice grazie ad uno strepitoso intervento di Francesco Forte che ha impedito a De Rose di trovare un clamoroso vantaggio. L'ex portiere della Cararese ha letteralmente tolto con le dita il pallone dall'angolino alla sua sinistra. Questa la cronaca di un primo tempo che si è chiuso in rissa. Calmati i bollori nello spogliatoio, i rosa-nero si sono presentati in campo con l'esperto Accardi al posto dell'acerbo Marong. Contrariamente al primo tempo però l'Avellino è apparso meno pimpante rischiando subito in apertura di capitolare per mano di un indemoniato valente che si è travestito da dribloman facendo cadere come biriglia almeno quattro bianco-verdi prima di farsi murare la conclusione dal solito forte. In maniera sordione l'Avellino allora ha provato ad abbassare i ritmi e addormentare la partita stancamente quando il match era ormai avviato alla conclusione sul binario del pareggio Dossena e Bro sono entrati in contatto in aria. Tra le proteste vibranti dei bianco-verdi Gualtieri ha indicato il rigore e ha deciso di fatto la partita perché Floriano non ha lasciato scampo a forte bravo comunque ad intercettare di striscio la palla ma non a respingerla. Con rabbia e orgoglio l'Avellino si è allora riversato all'attacco ma non è stato fortunato perché nel recupero su punizione dalla destra di Aloi Ciancio ha timbrato in pieno l'incrocio dei pali aumentando Accordi più il rammarico prima della rissa finale in cui al triplice fischio è stato espulso Baraglia. Persa la prima battaglia tuttavia mercoledì si replicarà al Partenio Lombardi dove si deciderà chi tra Avellino e Palermo resterà ancora vivo nella bolgia dei play-off.